...cantiere che da cronoprogramma dovrebbe durare 180 giorni, in realtà si cercherà di farlo compattare. Queste impattature che riguardano le prime quattro colonne rimarranno fino alla prima settimana di giugno, prima decina di giugno, vediamo un pochino come decideremo di andare avanti con il montaggio delle tribune della giostra, dopodiché verranno smontate per le due settimane della giostra, successivamente, subito dopo la giostra, si proseguirà fasciando le ultime due colonne, facendo la scalinata, e poi le altre tre colonne, quindi questa qui sarà il modo di andare avanti.